Il problema principalmente della scuola di Palombaio è un impianto nuovo di riscaldamento perché è obsoleto, sono più di 30 anni che siamo in questa situazione, quindi chi vive a Palombaio e chi c'è nato è un problema che abbiamo da sempre. Quindi ora diciamo basta, noi vogliamo, pretendiamo un impianto nuovo a scuola. I genitori degli alunni della scuola Don Tonino Bello di Palombaio tornano a denunciare il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico della frazione. Un problema atavico che da anni viene denunciato e che costringe gli alunni a fare lezione al freddo, soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio. Non servono a molto gli interventi che puntualmente vengono realizzati, interventi che per i genitori sono solamente rattoppi, poco funzionali a risolvere definitivamente il problema. E' un continuo di interventi, poi viene fatta richiesta del gasolio e il gasolio non arriva appena viene fatta richiesta, arriva dopo due giorni, tre giorni, poi nel frattempo rimangono spenti. Stiamo raccogliendo le firme, non solo i genitori degli alunni, ma tutta Palombaio si sta mobilitando per questo perché siamo tutti stanchi e di conseguenza noi chiediamo al sindaco e lo ribadiamo a voce alta che vogliamo un impianto nuovo per la scuola. Ma adesso, nell'immediata, non fra un anno o due anni, perché a noi non ci interessa se arriverà il metano o non arriverà il metano. E' successo in diversi giorni che siamo venuti a prendere i bambini, siamo stati chiamati dalle maestre perché i bambini avevano freddo, nelle prime bambini di sei anni che hanno freddo e non riescono a scrivere. Quindi noi chiediamo semplicemente una soluzione a questo problema, perché i nostri figli, come i figli degli altri, hanno bisogno e hanno il diritto allo studio. E' stato detto che verrà risolto con l'arrivo del gas metano, sono anni che viene detto che arriverà il gas metano. Interpellato dai genitori, del problema si è interessato anche il consigliere di opposizione Franco Natilla. Dal 1950 ad oggi sono passati, se non erro, 70 anni. Allora, 70 anni mi pare che siano qualcosa di troppo per ogni impianto. Come va modificato in una civile abitazione dopo alcuni anni, perché l'impianto diventa obsoleto e quindi ha bisogno di interventi, così nella scuola. Ma un nuovo impianto adesso è impensabile per l'amministrazione, in quanto siamo in attesa dei lavori per l'allaccio delle frazioni alla rete del gas. A rispondere i genitori è l'assessore Marina Salierno, che insieme ai responsabili dell'ufficio tecnico, ha fatto dei sopralluoghi nei giorni scorsi. È stato riscontrato che i termosifoni in alcune aule, precisamente tre aule, sono più tiepidi rispetto alle altre. Ma è un problema che persiste a seguito di lavori che comunque devono essere effettuati sull'impianto. Ma abbiamo anche riscontrato che i bambini erano regolarmente in aula. La temperatura non era fredda, quindi si poteva comunque fare didattica e restare in aula. È stata prospettata dall'ufficio lavori pubblici una soluzione che per il momento può essere quello dell'acquisto di termoconvettori. Perché precisamente parliamo non dell'intero istituto, ma bensì di tre aule.